buon pomeriggio a tutti ben ritrovati come ogni martedì al consueto aggiornamento di trading con ichimoku più pre section andiamo dopo la sessione del giovedì ad aggiornare quelli che sono gli strumenti più interessanti analizzando il tutto grazie alla della pre section e grazie all'indicatore ichimoku che ormai ci accompagna da diversi anni detto ciò però andiamo subito anzi voglio invitarvi alla prossima sessione che si terrà giovedì alle ore sedici alle ore dalle ore sedici alle ore diciassette andiamo nella sezione appuntamenti tolgo la webcam così vedete meglio lo schermo eccola qui sessione sempre a pagamento però insomma aperta a tutti gli interessati potete già iscrivervi qui in basso bene ricordo invece che per chi vuole capire che cosa facciamo all'interno di queste sessioni di ichimoku più pre section basta andare nella sezione servizi selezionare questo servizio quindi le sessioni del giovedì e qui sotto trovate una sessione completa di trading chiaramente andando ad analizzare il tutto con gli strumenti appena elencati detto ciò andiamo subito sulla piattaforma del broker quindi su kimura trading per capire quali sono gli argomenti che affronteremo quest'oggi parliamo da partiamo dalle criptovalute allora noi siamo già posizionati long da un bel po' su bitcoin su ethereum però quello che voglio fare oggi è analizzare la situazione anche grazie all'indicatore allora a livello tecnico è chiaro che la tendenza insomma ai rialzisti i minimi sono via via crescenti e la resistenza chiave è stata rotta al rialzo questo l'abbiamo già visto in precedenza cosa ci dice anche l'indicatore ichimoku inoltre ci indica che la cumo quindi la nuvola è passata da discendente ad ascendente quindi dal colore rosso siamo andati al colore verde quindi anche questa è un'avvisaglia che il trend di fondo sta cambiando insieme anche alla linea tenkan che è la rossa è passata al di sopra della chiesion che è la linea blue quindi anche questo è sintomo di tendenza rialzista come chiaramente si può notare dai prezzi e la rottura della resistenza chiave ha chiaramente portato al di sopra anche la linea kikow che non è altro che la linea del prezzo solo che traslata 26 periodi in indietro quindi abbiamo delle insomma abbiamo una tendenza palesemente rialzista siamo usciti dalla cumo e direi che siamo all'interno del nuovo trend rialzista sia per quanto riguarda bitcoin sia per quanto riguarda ethereum e sempre grazie all'indicatore ichimoku possiamo andare ad individuare quelli che sono dei livelli chiave a cui dovremo sicuramente prestare attenzione qualora insomma i prezzi arriveranno a testare quelle zone infatti ne abbiamo già parlato anche in qualche tempo fa occhio perché a 50 io avevo nominato 54 mila come livello però se vedete qui ecco qui questa fascia che va da 53 54 mila qui troviamo vedete la parte la cumo piatta la parte piatta della nuvola di ichimoku che come sappiamo può fungere da supporto o resistenza in questo caso da resistenza quindi l'obiettivo rialzista si trova lì prima però di raggiungere quell'obiettivo ricordo e questo l'abbiamo detto anche ieri che c'è un altro obiettivo in area 51 mila dollari bene per quanto riguarda anche ethereum bene perché noi anche qui siamo long anche qui stesse informazioni la cumo cambia da discendente ad ascendente stessa conformazione stessa struttura anche per quanto riguarda le medie dell'indicatore ichimoku e anche la linea kikawa è tornata al di sopra dei 26 periodi precedenti e soprattutto il di sopra della resistenza quindi bene anche ethereum ma qui l'indicatore ichimoku ci dà questo livello quindi dove siamo adesso che tra l'altro era anche uno dei livelli intermedio detto attenzione ai 3400 nello specifico ichimoku ci dice 3468 quindi attenzione i prezzi da qui potrebbero un attimo fermarsi in ogni caso la tendenza è rialzista quindi su eventuali ribassi possiamo andare a fare degli acquisti almeno questo è quello che almeno questo è quello che che farò io andiamo però ora a parlare di cambi valutari partendo da euro dollaro eccoci qui sul time frame giornaliero del cambio più tradato in assoluto euro dollaro ultimamente molto ultimamente poco volatile nell'ultima settimana però oggi abbiamo avuto un rialzo veramente molto importante noi eravamo anche posizionati posizionati long siamo stati sfortunati siamo usciti molto prima rispetto all'obiettivo finale ma quello che voglio far notare è che abbiamo raggiunto la linea che è la linea blu questa qui la media che come sappiamo anche in passato ha funzionato molto bene da resistenza la cosa interessante però qui è che arriviamo da dei minimi crescenti quindi facciamo molta attenzione la rottura della linea che non rialzo che è la linea blu potrebbe sicuramente dare nuova spinta il cambio valutario euro dollaro quindi io qui sono più propenso a comprare che a vendere però attenzione perché abbiamo un livello intermedio molto importante segnalatoci dalla linea dalla cumo piatta ma qui a 1 11 e 50 e anche dalla linea che troviamo proprio qui ovviamente questo livello è confermato anche da che cosa è confermato anche dalla price action infatti se andiamo a vedere questo minimo che c'è stato il giorno 28 gennaio 2022 è un minimo molto importante di conseguenza questo livello può fungere da resistenza quindi viene confermata anche viene confermato anche dalla price action a questo livello per quanto invece riguarda eurofranco ne avevamo parlato abbiamo parlato di eventuali long da questi livelli comunque la mia view era rialzista fin quando i prezzi non tornavano al di sotto di questo minimo guardate la key 1 quindi la linea blu dell'indicatore cimaco come ha tenuto bene abbiamo raggiunto i massimi precedenti io qui ogni momento di debolezza lo sfrutterò per acquistare eurofranco andiamo grazie sempre all'indicatore a cercare qualche livello chiave allora questa è questo è un livello che in precedenza funzionava da resistenza ora adesso dobbiamo attendere la rottura giornaliera al rialzo ma una volta che i prezzi chiuderanno di sopra di questa zona quindi 1 0 3 sostanzialmente 1 0 2 90 potremmo sfruttare questo livello come posizionare insomma ci potremmo posizionare long da qui per quanto riguarda gli obiettivi abbiamo il nostro target indicator che ce li indica il primo qui a 1 0 41 e 70 mentre l'obiettivo finale però di più ampio respiro lo troviamo qui sui massimi di febbraio 2022 a 1 e 0 6 concludiamo il tutto con il cambio valutario nz di usd che sembra essere l'unico ma abbastanza lineare un trend abbastanza lineare rialzista chiaramente come possiamo vedere massimi e minimi via via crescente molto interessante quello che è il test odierno test dei della zona dei minimi del 22 3 20 2022 lo vedete questo questa zona di mini qui è molto importante perché questa è stata una seduta contraddistinta da copiosi acquisti e questa candela ha creato una zona supportiva molto importante che proprio oggi è stata testata quindi attendiamo la chiusura di quest'oggi e successivamente a mio avviso possiamo provare un long con un obiettivo in area 0 e 71 eccoci qui qui la tendenza è rialzista già da più tempo rispetto ai grafici che abbiamo visto in precedenza però in questo periodo è un po' particolare preferisco attendere la chiusura daily prima di posizionarmi long soprattutto in ottica multi day perché qui stiamo parlando sempre di time frame giornaliero su tutti i grafici che abbiamo visto e di conseguenza insomma serve attendere un po' più di conferme rispetto al solito bene ragazzi direi che per oggi noi abbiamo visto tutto io vi aspetto giovedì vi aspetto giovedì alla sessione di trading con michimoku più price action buona giornata e buon trading a tutti